Lei ha sentito gli spari? Quattro Quattro E si è affacciato subito? Le donne, due donne che dicevano una donna, chiamate la polizia, chiamate l'ambulante Però non ha visto neanche qualcuno entrare nel portone? No, no, no Perché lei da dove lei non lo poteva vedere? No, perché c'è il portone che mi impedisce E lui ha detto qualcosa che lei sappia? A chi? Musica No Faccio sentire musica Io sono dall'altra parte Non ha sentito gridare prima? No, solo le due ragazze Uno che diceva chiamate la polizia e chiamate l'ambulante E nessuno ha visto niente? No E nessuno ha visto niente? E nessuno ha visto niente? Non è inizieno tutto niente? Non è inizio tutto niente? No